Buonasera a tutti, sono Samuel Cingari, abito in Svizzera, più precisamente a Lugano e questa ho già la mia chitarra in mano per presentarmi al meglio. Io suono da sette anni la chitarra e nell'ultimo anno mi sono buttato sul blues e questo ha influenzato il racconto che ho scritto per il primo Chiara e ho cercato nelle atmosfere di una non detta New Orleans di trasmettere quello che io provo mentre suono. Questo è tutto, grazie per aver scelto il mio racconto e buona serata.